Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di due distinti interventi, ha scoperto nel quartiere Scampia del Capologo una fabbrica abusiva e sottoposto a sequestro nel complesso 114.000 articoli contraffatti, tra cui capi di abbigliamento e accessori di carnevale. In particolare, nel corso di un primo intervento, i baschi verdi del gruppo pronto impiego. Seguendo alcune voluminose consegne portate a termine da insospettabili fattorini, in realtà tutti collegati allo stesso gruppo, hanno effettuato un primo sequestro cui è seguita la perquisizione di un appartamento, che ha permesso di accertare che all'interno era stata allestita una vera e propria fabbrica del falso, attrezzata con macchinari per la produzione di merce contraffatta e materiale utile all'assemblaggio e confezionamento. Sequestrati, oltre 600 capi di abbigliamento già confezionati e pronti ad essere immesi sul mercato. Tra maglie, giubbini e pantaloni, dei marchi contraffatti Adidas e Chanel, Nike, Gucci, Pyrex, scarpe e borse Griff, Alexander McQueen, Saucone e Timberland ed oltre 28.000 tra etichette, cerniere e scatole per scarpe e buste. Denunciata la titolare, una 31enne di Napoli per contraffazione e ricettazione.